la collega stavo consultando un po' qui, voglio capire, l'anno prossimo in vacanza senti ma tu devi andare in vacanza? certo che devo andare in vacanza allora senti, per una cosa, ti consiglio di andare in Tunisia oh, si è bellissima, vai in Tunisia perché ti diverte tantissimo veramente? a consiglio quasi quasi, passo un meserino, si si, hai ragione la vuoi una brochure? no, ho preso il cappuccino, sto a dieta no, volevo dire la brochure, va bene, continuo a lavorare si si, che devo finire qua, il verbale è ancora il capitano e c'è un gasto